O Maria, aurora del mondo nuovo, madre dei viventi, affidiamo a te la causa della vita. Guarda, o madre, al numero sconfinato, di bimbi cui viene impedito di nascere, di poveri cui ha reso difficile vivere, di uomini e donne vittime di disumana violenza, di anziani e malati uccisi dall'indifferenza, o da una presunta pietà, fa che quanti credano nel tuo figlio, sappiano annunciare con franchezza e amore, agli uomini del nostro tempo, il Vangelo della vita, ottieni loro la grazia di accoglierlo, come dono sempre nuovo, la gioia di celebrarlo con gratitudine, in tutta la loro esistenza, e il coraggio di testimoniarlo, con tenacia operosa, per costruire, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, la civiltà della verità e dell'amore, a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita.